Buongiorno a tutti, oggi vi propongo in affitto un appartamento sito a Pavia, la zona è quel ovest, più precisamente via Chiozzo, si tratta di tre locali, c'è la cucina arredata, una cucina appena messa, quindi la cucina è nuova di pacca, siamo nel 2018, ecco qua, adesso cominciamo a dargli un'occhiata, qua vedete che è tutto nuovo, non è mai stata utilizzata, c'è il frigorifero nuovo, la cucina è quella di Mondo Convenienza, una bella cucina, adesso qua dovranno montare il rubinetto, però il grosso è stato messo, poi riscaldamento semicentralizzato, il piano è un piano rialzato, ci sono 3-4 gradini, quindi nella parte frontale dove c'è la cucina e il soggiorno è un piano rialzato, mentre nella parte delle camere da letto è come se fosse un primo piano, ok, qua è il soggiorno, questo qui è completamente da arredare, ok, adesso andiamo a dare un'occhiata a una delle due camere da letto, questa è quella matrimoniale, allora la casa va bene per una famiglia di 3 persone, però anche 4 ci possono stare tranquillamente, ok, questa è la camera più piccola, ovvero la camera più piccola per farci stare 2 persone bisognerebbe mettere uno di quei letti a ponti, qua il riscaldamento anche qui con le termovalvole, balconcino, questo qua è l'unico balcone che c'è nella casa, qua siamo nella parte dietro, come vedete è come se fosse un primo piano, è un primo piano, perfetto, adesso andiamo a vedere l'ultimo ambiente che è il bagno, ritorniamo nel nostro disimpegno e arriviamo al bagno che hanno ristrutturato nel 2005, un bagno normalissimo, però la cosa bella è che è stato completamente ristrutturato, ok, e lì c'è la mezza vasca. Grazie.